Ho deciso di partecipare a questo progetto perché da un incontro con Francesco Carrozzini ho capito che avevamo molte cose da dirci, il progetto mi sembrava ambizioso, avevo una grande voglia di fare un progetto internazionale e lui mi sembrava un grandissimo modo per affrontare di nuovo qualcosa che non conoscevo. Il film parla di un uomo che decide di tagliare i ponti col suo passato, lo fa scappando nel modo più semplice che si possa immaginare, durante questa fuga però avrà a che fare con una serie di personaggi che ovviamente andranno ad influenzare le sue scelte per arrivare poi a fare qualcosa che scoprirete quando vedrete il film, perché sono spoiler. Il film è sicuramente un film sulla paternità, sull'appartenenza, un film sull'amore e sulla famiglia, sull'importanza delle emotività all'interno della famiglia e sull'importanza delle scelte e quindi di quanto ognuno di noi sia disposto a prendere delle scelte lasciando qualcosa e andando a ricercare qualcosa che non conosce. Il mio personaggio, John, è uno che ha avuto un sacco di problemi nella vita, come capita spesso nei miei personaggi, e scappa, scappa, scappa e nella fuga incontrerà, come vi ho detto, un sacco di personaggi che gli faranno cambiare idea.